aperta. Sta giocando bene dice Franco da Roma, ho sentito bene? Oh! Non ci credo, gol di Felipe Anderson, qua la Lazio fa gol ma l'Inter dorme, la l'Inter dorme. Difesa improponibile in questa occasione. Stava giocando meglio però. Sì sì no, meritato vantaggio sicuramente le occasioni le aveva avute la Lazio però un gol così non lo puoi prendere. C'è questo cross dalla tre quarti centrale, Bastoni guarda il pallone, non si preoccupa che dietro abbia qualcuno, Andanovic non esce, si ferma a metà strada, in mezzo si mette Felipe Anderson che deve solo esplorare. 1-0 per la Lazio però è un gol che una squadra come l'Inter non può prendere. Non può prendere un gol da 35 metri. Bravissimo Milinkovic, bravissimo Filippo, ma Felipe Anderson scusate ma è vero la difesa dell'Inter è messa male. Per via centrali è drammatica. No, non puoi. Perché c'era un difensore e poi Di Marco che è andato a chiudere, a supportare, ma in ritardo è Felipe Anderson. Non c'è un VAR qui. Tra l'altro non mi sembrava nemmeno un cross così velocissimo, no? È calibrato sul... La palla è bella eh. La palla è bellissima ma è calibrata. È centrale, è centrale di tutto il tempo di legge. Esattamente. Quindi non... Felipe Anderson da dietro, quello del tempo contro due. Beccano. Bello lancio, bravo Anderson, però lì in fase difensiva eravamo messi male. Non c'è chiuso. Sì, anche perché è stata un'azione elementare no? Sì, sì, sì. E quindi prendere un gol così, diciamo... Non puoi prendere un gol così, mi dispiace. Franco, fino al trentatresio minuto, guarda, non sono riuscito a intervenire perché se no adesso mi staresti dicendo, eh, avevi detto che Felipe Anderson non era sceso in campo, poi invece l'assist per immobile poco fa e adesso il gol su assist di... Poi è salito in carta. È vero, è vero, è vero. Perché aveva fatto anche l'assist per immobile. Esatto, esatto. Prima di quello, zero. Poi è riuscito a mettere il timbro. Adesso Minzaghi, secondo me, dovrà cambiare qualcosa in chiave. In chiave di fantasia. Dovrà mettere qualche giocatore. Su Cialanoglu credo che non ci voglia la scienza capire che lo metterà dentro dal primo minuto del secondo tempo, no? Sì, perché manca proprio qualche scintilla dell'Inter. Manca un po' di fantasia, un po' di opportunità di costruire e creare. E sì, o arrivano dalle fasce con Di Marco e Dunfriso dal mezzo, è un po' più complicato. C'è aia per Lukaku, Lukaku, limita la rigore. Lukaku in aria, palla sul sinistro, la tre addosso, non riesce a girarsi. Poi Dunfris va a terra. Chiedono il rigore ai giocatori dell'Inter. Rimane a terra Dunfris dolorante, si tocca il polpaccio, si va avanti. Dunfris rimane a terra, la Lazio metterà probabilmente il pallone in auto, lo fa. Continuano le proteste dei giocatori dell'Inter. Fabri fa muso con Brozovic che è arrivato troppo vicino a protestare. Io non ho idea di cosa sia successo, quindi ci sarà sicuramente nel caso un VAR. Assolutamente sì. Rivediamo, Brozo a cercare Gaglia, Lukaku in fuorigioco. Quindi è inutile qualsiasi cosa. Però sai che, io non ho visto, vediamo. Ma comunque Lukaku in fuorigioco. Sì, sì, certo, certo. Però secondo me è Dunfris che va a mettere la gamba su Zaccagni. No, però dipende. Dipende, perché se Dunfris mette la gamba davanti, prende il pallone, l'altro lo calcia. Gli ha dato la classica vecchia. Allora, non ci hanno dato un'inquadratura giusta, però come dice Filippo, comunque sul nascere Lukaku era fuorigioco. Vediamo poi per curiosità se ci danno un'inquadratura migliore. Gli ha dato quella classica ginocchiata che si dice la vecchia. Non è proprio una 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 vecchia. No, ma ragazzi, ma non c'è molto da dire. Fuorigioco di Lukaku, quindi è un'azione che è nulla. Anche se fosse fallo su Dunfris. No, no, certo. Era giusto la curiosità. Intanto stiamo rivedendo. No, il gol dell'Inter secondo me è imbarazzante come lo prende la difesa. Se volessimo trovare un colpevole più di Marco Bastoni. Eh, non si sono capiti. Non si sono capiti. O il portiere, dici tu? No, il portiere no. Non esce? Non doveva uscire, no? No. E chiamarla? No. No, lì di Marco non era in posizione. Non era in posizione. Ha cercato di rimediare dopo. Non l'ha preso né uno né l'altro. Per via centrali, però, cioè, devi vedere l'attretto. Cioè, non è dai lati che magari devi calcolare. Forse è stata una disattenzione che non puoi permetterci. Ci fermiamo due minuti, non di più, torniamo per i finali di tempo. Restate con noi. Secondi sono già passati. Possesso palla Lazio. Filippo. Sì, un minuto alla fine. Lazio è in possesso sulla fascia di sinistra, ancora all'interno della propria metà campo. Fa passare il tempo la squadra di Sarri. Ancora Patrick. C'è il pressing di Lukaku. Si torna su Provedel. Lukaku prova ad avvicinarsi al portiere della Lazio che lancia lungo a scavalcare il centrocampo. Mette giù bene i bastoni. Poi va a cercare Ebrozzo. Tre quarti centrale. C'è spazio. Gagliardini. 40 secondi al termine. Palla per Di Marco. Di Marco ancora per Gaglia. Vicino alla bandierina del corner. Prova a guadagnare un corner. Non ce la fa. Poi attenzione che Cataldi viene un po' disturbato da Lazari, ma esce bene la Lazio. Palla al piede. Attenzione ancora la Lazio. Prova ad andare via. Bravo. Scrini alla breccare. Ultima azione probabilmente. Brozzo. Barella. Tre quarti. Va a cercare Dunfris. 20 secondi alla fine. Ancora Dunfris. E torniamo indietro. 15 secondi al termine. De Vrij. Bastoni. Finiamola lì allora. Barella. Prova a lanciare Dunfris. 9 secondi alla fine. Chiude bene Marusic. Fallo laterale. Credo che fischierà la fine. Fabri. Finisce il primo tempo. 1-0 per la Lazio. Gol di Felipe Anderson su un'ingenuità clamorosa della difesa dell'Inter. Risultato insospettabile dopo l'inizio partita dove l'Inter aveva veramente preso il controllo del gioco totale. Quarantesimo Felipe Anderson. Però io credo che si possa dire che occasioni pericolose l'Inter non ne ha create. Quella potenziale con Lukaku di testa che ha colpito debole. Sì. Di da lui ti aspetti che faccia il colpito. Ti aspetti il gioco l'hai letta bene perché ci aspettavamo una Lazio aggressiva e non lo è stata per la prima parte. Poi l'Inter è calata e è venuta fuori la Lazio e nelle un paio di occasioni che ha avuto uno le ha sfruttate. Primi 15 minuti a pannaggio assoluto dell'Inter. Credo possesso palla 90-10. Però dopo il quarto d'ora è uscita poi la Lazio e mi sento di dire che le occasioni più clamorose da gol sono di... Immobile con il tiro di sinistro incrociato. Beh Zaccagni la deviazione di Skriniar e poi Felipe Anderson immobile. Eh sì. Eh sì. E poi il gol ovviamente di Felipe Anderson. Franco direi una buona Lazio no? Dopo un inizio un po' traumatico però è venuta fuori bene. Anche se visto l'inizio non ce l'aspettavamo credo che il vantaggio fino a questo momento sia sostanzialmente meritato. Sì. E la Lazio ha carburato abbastanza lentamente poi quando è venuto fuori. Io sto vedendo in questi ultimi 20 minuti un Felipe Anderson veramente superlativo. Eh pensavamo che l'eventuale grande partita della Lazio potesse passare da Milinko in Savic e invece sta passando da Felipe Anderson. Per noi sembra che tutta la Lazio sia cresciuta no? Sì sì. Anche dietro. Io ricordo all'inizio oggettivamente non c'era un giocatore laziale che si prendeva la responsabilità di tenere il pallone impostare. Eh probabilmente l'Inter ha abbassato un pochino la pressione e ha favorito però la Lazio sta facendo una buonissima partita secondo me con tutti gli interpi. Allora io devo dire che vado non so se siete d'accordo con me se lo direte vado dalla parte di Ugo perché intanto i numeri eh grazie alla regia tre tiri in porta per per squadra l'Inter ha tirato più fuori ha avuto più il possesso palla eh per il resto una partita molto corretta l'Inter ha fatto sette falli la Lazio un fallo in 47 minuti. No dicevo che Gagliardini non sta giocando male è sempre facile buttare la croce su Gagliardini però manca un Cialanoglu. Un altro giocatore rispetto a Cialanoglu Cialanoglu è uno che tiene i contatti tra tra la linea di centrocampo e gli attaccanti. Gli attaccanti sono completamente isolati secondo me non sono neanche in forma né Lukaku né... Dopo sentiamo gli up and down e chi peggio? Lukaku o Lautaro? Eh? Chi peggio? Lukaku o Lautaro? Tutte e due. Tutte e due. Tutte e due. Tutte e due. A me non è piaciuto assolutamente Lautaro. Lautaro. Dalla regia Simone scrivono Inter opaca sei d'accordo? No per i primi dieci minuti no poi diciamo la Lazio ha preso un po' più di campo e siamo andati in fatica e ci siamo un po' adesso speriamo che il secondo tempo inizi come il primo. Ok. Filippo up and down. Allora vediamo chi sono i migliori e i peggiori di questa prima frazione di gioco. Allora per quanto riguarda gli up non è facile. Dunfriss sicuramente perché forse in questo momento in questo primo tempo il giocatore che ha creato più problemi alla difesa della Lazio quindi gli do sei e mezzo. Non mi è dispiaciuto Barella nel senso che è uno che sta correndo sta andando a prendere palloni. Vale sempre sei minimo. Sì quindi sei più a Barella e il terzo è difficile perché metto Skriniar. Metto Skriniar anche lui con un sei più perché in difesa è quello che ha sofferto di meno. Qualche di down e allora Di Marco per me sbaglia abbastanza sul gol ed è un errore pesante e quindi gli do 5 e mezzo anche se poi quando deve attaccare può creare sempre dei problemi perché da quel piede può nascere qualunque cosa però quando deve difendere ancora tante cose da migliorare e secondo me su quel lancio lui sbaglia il movimento. La diagonale. Sì. Poi Lautaro non bene. Lautaro 5. È poco presente, poco partecipe rispetto a Lukaku. Si è visto molto meno. Lukaku è impreciso. Lukaku fa fatica a stoppare il pallone perché il campo non è granché. Lui non è sicuramente al 100% però fa salire la squadra. Un paio di occasioni l'ha creata e lui facendo salire la squadra tenendosi l'uomo dietro è impreciso ancora con i piedi. Ha bisogno, si vede, di entrare ancora in forma. Non è ancora al 100% e quindi do 5 a Lautaro e poi tra Brozovic e Gagliardini metto Gagliardini perché Gagliardini in questa partita qua va bene ha limitato i primi dieci minuti Milinkovic-Savic poi però Milinkovic si è spostato, Gagliardini ha perso l'utilità e non crea niente. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che... Ha perso il punto di riferimento. Ha ragione però Filippo, è Milinkovic, infatti l'assist di Milinkovic arriva dal centro-sinistra e Gagliardini dall'altra parte. Però ho capito che il 5 di Gagliardini 5, il voto di Lautaro secondo me e quello che poteva anche essere di Lukaku è molto figlio del 5 di Gagliardini. A noi lì manca Cialanoglu che dialoga con Brozovic, che cambia gioco. Manca il raccordo Filippo, il raccordo che ti può innescare le punte. A me ulteriormente Lautaro non è piaciuto rispetto a Lukaku che comunque un paio di sponde le ha fatte, si fa valere col fisico. Lautaro io l'ho visto poco, pochissimo. Io mi ricordo il primo tempo di Lautaro per quel tiro tentato dalla sua metatrampo. Sì, ma non è mai stato messo in condizione. No, esatto. Certo. Sugli attaccanti grava questo, cioè puoi fare una brutta partita perché sbagli due gol, puoi fare una brutta partita perché non la vedi mai. Non la vedi mai, ti proponi poco e paghi da. Però un paio di occasioni Lautaro per fare male, due o tre con lo spazio le ha avute e le ha gestite male. Sì, sì. Perché un paio di contropiedi la Lazio ce li ha lasciati, soprattutto con molto spazio sulla tre quarti, con la Lazio spaccata in due. La difesa, centrocampo attacco che ha lasciato praticamente una fetta di campo all'Inter. E tu non l'hai sfortata. E tu non l'hai sfortata. E due le ha avute sul piede Lautaro. Una si è girato bene e ha passato la palla agli avversari. L'altra aveva lo spazio per puntare la porta, si è fatto rimontare da tre giocatori della Lazio. Quindi ha avuto l'occasione per fare male. Per fare male. Comunque stiamo rivedendo il gol preso dall'Inter. Di Marco si perde completamente. Allora, abbiamo visto i due miliardi di gol così. No, c'è il clamoroso errore di Di Marco. Sì, ma è un difetto di attenzione che una squadra come l'Inter non può permettersi. All'Inter secondo me, per quello che ho visto fino adesso, mancano due scintille. Una di fantasia centrocampo che può darla a Cialanoglu e l'altra importa la sana follia di un giovane. Oh nana! Oh nana! Ma guarda che qui Andanovic non può farci niente. Qui il gol è figlio dei movimenti sbagliati e delle marcature preventive. Da mezzo centile per i colpisci di testa. Fatti. E poi, come diceva Becca, concordo, non puoi prendere gol su un'imbucata centrale lenta, calibrata da 32-35 metri. Cioè, capisci che... Non lo fai, vai. E' un errore grave che al momento decide... Il lancio è molto bello però, eh. Come scusa Franco? Franco? Il lancio è molto bello che... No, no, bellissimo. L'ho detto Franco, è perfetto, calibrato, però non è neanche veloce. Però il lancio è perfetto. Cioè, se non c'è un Milinkovic, un gol così non lo prendi. Se non c'è un Milinkovic che si inventa di vedere uno a 40 metri in diagonale, un gol così non lo prendi. La palla l'ha messa in due giri contatti. Io ho avuto la sensazione che l'Inter sia un po' in ritardo. Di condizione? Sono quelle classiche azioni dove uno guarda l'altro, un difensore guarda l'altro e nessuno. Ma con i suoi uomini migliori. Quali sono, Franco? Chi hai visto in ritardo? Lukaku? Ma secondo me anche Barella non sta facendo cose trascendentali e chiaramente i due davanti, la Lula, sono stati fronteggiati abbastanza agevolmente finora. Perché... Da Romagnoli e da Patrick. Sulla carta Patrick Romagnoli, Lukaku Lautaro, dovrebbe essere una mattanza. Non c'è gara. Ma anche Brozovic che ha detto i tempi, che sa impostare, cadenza l'azione, dà l'indirizzo. Si è visto poco, abbiamo criticato per i primi 20 minuti le amnesie di Brozovic. Siamo tutti d'accordo. Stavamo parlando prima dell'atteggiamento, la lettura. Cinque minuti a prima con lui stavo parlando e gli ho detto, sei troppo lunghi. Guarda caso, nell'attimo che eravamo lunghi, c'è un beccato per i miei centrali. Quindi la prima roba, io non ho mai fatto l'allenatore, però li voglio tutti uniti. Compatti, stretti. Il sogno di ogni allenatore. La prima impressione mi è sembrata un po' troppo. Da questo punto di vista, con il secondo anno di Conte non succedeva che la squadra si sfilacciava a questi livelli. Era molto più accorta. Con Inzaghi si gioca meglio, cose ripetute già tante volte, ma a volte ci sfilacciamo troppo e secondo me prendiamo queste imbucate che... C'è la Noglu che entri subito? Siamo tutti d'accordo o pensate che possa non essere così? Secondo me iniziamo con lui. Dieci minuti ancora di Gagliardini? Con quelli del primo tempo, poi dopo c'è l'artiglieria pesante, linea 3 o 4 da tutta dentro. Che possono assolutamente andare alla partita. Ci fermiamo due minuti e torniamo con il secondo tempo. Può anche essere Barella a battere la punizione con il destro, vediamo un po' se sarà il destro di Barella o il sinistro di Federico. Tutte e due rimangono sul pallone, c'è Zaccagni l'unico uomo in barriera. Tutto pronto per il cross. Vediamo chi si incarica della battuta. Parte di Marco col sinistro, arriva il cross. Morbido Lautaro non ci arriva, mette fuori mobile, palla che si impenna. Poi Dunfris la rimette di Lautaro! Martínez! E' il toro! 1-1! Sorpresa la difesa della Lazio. Assist di Denzel Dunfris che di testa ci crede sempre, va in cielo la spizza. Lautaro pare, mi pare che parta dietro. Anticipa Provedere e mette l'1-1. Lautaro e il toro. Dai ragazzi! Il pareggio dell'Inter, abbiamo detto brutta difesa dell'Inter sul primo gol della Lazio, mi sembra di poter dire brutta difesa della Lazio sul pareggio dell'Inter. Brutta proprio, se lo sono fatti, Provedere è colpevole, forse più degli altri. Buonissimo, buonissimo, parti dietro immobile. Sì, Provedere esce, però con una lentezza disarmante. Mettiamola così. Lentezza disarmante di Provedere e Lautaro ci ha zampato. Provedere però non ce l'è fatto. Sono saliti senza vedere gli uomini dell'Inter. Bravo Dunfris però ragazzi, Dunfris ne ha tre addosso e gli dà un metro a tutti, anche a Milinkovic, Savic. Poi Lautaro è velocissimo chiaramente, avventarsi sulla palla, rapace come al solito l'argentino. Ha fatto un gran numero a Lautaro. Non era facile? Non era facile. No, tra non facile e gran numero, ci passa un qualcosa di mezzo. L'ha dato proprio tac con l'esterno. Attenzione che riporta ancora l'Inter in contropiede, buca la lancia, centrocampo, Barella. Eh, Barella qua, perde un brutto pallone. Sì, è vero Franco. Provedere malissimo. Attenzione ancora l'Inter. Sì, Di Marco, tre quarti di sinistra, arriva al cross, il secondo palo c'è da solo Dunfris! Che sbaglia! Para, para, Provedere, ma qua Dunfris sbaglia. Concordo con te, Filippo. Para, Provedere, mette in corner, Dunfris era tutto solo. Di Marco gliela mette sulla testa, è un cross perfetto. Dunfris poteva giocare di testa, metterla dall'altra parte sul secondo palo. Invece ci arriva forse un po' troppo in ritardo, schiaccia il pallone e Provedere mette in corner. È stato bravo, è stato bravo il portiere. Però per me Dunfris ha colpito male la palla. Vabbè ragazzi, è una palla gol gigantesca perché... Tutto pronto per il corner, scusate, dalla sinistra, dalla destra di Marco Colmancino. C'è Fabri che dice qualcosa a Lukaku, vicino a Provedere. L'Inter ora ha preso coraggio dopo il gol, è andato vicinissimo al 2-1 subito. Parte Di Marco, arriva al cross morbido, Lautaro! Prova a inarcarsi, colpisce il pallone alto sopra la traversa. Dai, dai ragazzi, dai, dai! Quello di Dunfris era il colpo del knockout. Allora ragazzi, la schiaccia, quindi rallenta la traiettoria e poi sul primo palo. Cioè Provedere è il bravo, però la poteva parare solo in questo modo. Cioè questo è che cosa guarda? Per me lui, quando è arrivato il pallone, la palla è sulla testa, è perfetta. Lui se la trova, forse arriva dopo, se la trova bassa, si inarca e schiaccia il pallone. E poi Provedere è il distinto paro. Va bene Lukaku per Zeko e l'altro cambio, praticamente, non soltanto d'accordo. C'è Zaghi al telefono! Diggilo! È pronto? Passa! A lui veramente credeva ci fosse Zaghi al telefono. Certo, c'è il culo in break e per telefono a barbara. Zaghi chiama Simone. Le fanno tutti, anche adesso Zeko ha chiamato un attimo la moglie. Roma non fa la stupida stasera, dagli una mano ai nero-azzurri sì. Melli! Adesso arriviamo? Attento Franco. Sono meglio portigliella lì. Grande Franco! Grande Franco! L'hai visto un po' a pappagallato mentre rispondeva a Zaghi al telefono, barbato? Sì. Perché a pappagallato? È una delle definizioni che da Franco, che preferisco. Ma anche a pelle di Leone. In quella fase di Cigagne. Attenzione, adesso De Vrai in chiusura su Milinko. Sì, però l'Inter è un po' in affanno adesso, non è più tranquilla nelle giocate. Anche adesso De Vrai prova un anticipo, alla fine riesce a tenere il pallone, ma spazza via senza saperne leggere né scrivere. Ora palla sulla sinistra, la Lazio prova ad andare avanti. Non capisco perché non è ancora entrato Cialanoglu. Tu non mi riposa Filippo, è ufficiale. Vogliamo pensare che abbia un problema fisico che potrebbe essere. È l'unico motivo. C'errebbe l'unica scusa per non farla entrare. Attenzione alla Lazio, Milinkovic, Milinkovic. Cross in mezzo, lascia Darmian, Pedro in area di rigore, all'indietro, il destro di Luis Alberto. Mamma mia che gol ti ha fatto Luis Alberto. Che gol incredibile. Un gol incredibile. Incredibile. La prende di collo esterno e si infila sotto il seno. Simone, com'è? Che gol. Ti è piaciuto? Io se fossi in te, però se no sei un po' fuzzito. Così. Smo a naso proprio. Ho detto che gli hai portato i giella. Eh Simone, come lo vedi? Vedi? Dovevi fare il pendolino. Simo, purtroppo in televisione è così. Quando dici una cosa poi... Non scappi, eh. Non scappi. Una volta dissi che Klaivert della Roma era una pippa, feci un gol tipo partendo dal centrocampo un minuto dopo. Poi si è dimostrato non un fenomeno. No, il futuro di Klaivert ti ha dato ragione. No, il futuro poi mi ha dato ragione. Comunque, Luis Alberto dal nulla si inventa un gol di esterno destro, pala all'incrocio Andanovic. Incredibile. Ma nessun portiere al mondo avrebbe potuto palare... Come Scamacca l'anno scorso col Milano. Però la costruzione dell'azione della Lazio è interessante. Qui la difesa dell'Inter è sempre in ritardo. Madonna che cosa. Sempre in ritardo sia sul traversone che sulla chiusura a uscire. Qui non esce nessuno. Più che i difensori è un centrocampista di chi deve andare. Esatto, che devono andare a chiudere. Non erano tornati. Però la difesa becca sul primo cross. C'è la deviazione di Barella, ragazzi. C'è la deviazione. C'è la deviazione di Barella. Nulla toglie la conclusione di Luis Alberto. Ma la deviazione magari qualcosa ha spostato, lo so. Però l'esecuzione magistrale. Però aveva tutto lo spazio per calciare in tranquillità. Però mi aveva colpito un po' Aldanovic che l'ho visto un po' troppo di qua. Ecco, perché probabilmente lui l'ha visto partire dritta. Poi con la mezza deviazione. Però girava già. Ancora cambi per Inzaghi. E adesso entra Cialanoglu. Entra Cialanoglu fuori Gagliardini. Pazzesco. Esce Barella, entra Correa. A volte secondo me un allenatore... L'attrazione anteriore è decisamente... Sì, però adesso abbiamo visto, ho rivisto il gol. Non è per pormi su un giocatore. C'è, ho sbaglio? Gagliardini è in mezzo all'area di rigore, sul dischetto con la difesa schierata che non sa dove stare. Lì tu devi stare al limite dell'area di rigore e coprire e schermare, no? E infatti sul tiro di Luiz Alberto non c'è nessun centrocampista o difensore che... Ma guarda bene l'azione. Guarda Gagliardini. Però i difensori, Filippo, lì c'hanno anche gli attaccanti quindi devi stare in movimento. Però quello che mi ha colpito è che tra i difensori e Luiz Alberto non c'è una spazzatura. Eh sì, ma sul cross che arriva c'è un'indecisione. Poi è un'ora che non esce. Però l'Inter di per sé è allungata e siamo sull'1-1. Ma già al primo tempo eravamo... Correa, 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 entra in area di rigore. Corner. Arriva Cataldi, mette il pallone in corner. Eh, abbiamo ancora 13 minuti più recupero. C'è stato anche il cooling break quindi qualcosa in più ci sarà. E voglio, c'è tutto il tempo per adricciarla ancora. Ciala, dalla bandierina in corner. Solo 13 minuti per Cialanoglu più recupero. Questa è una cosa che poi prima o poi capirò. Arriva il cross di Ciala. Cataldi mette fuori e la palla viene recuperata dalla Lazio con Luiz Alberto. Lancio lungo col Mancino. Arriva Brozzo, mette giù il pallone. Lancio ancora lungo a cercare lo scatto di Darmiane. Un lancio assolutamente impreciso. Fallo laterale per la Lazio. Non bene Brozovic oggi. Non bene per niente. No, rispetto ai suoi standard sicuramente no. Intanto è inquadrato Luiz Alberto. Davvero una meraviglia. Chissà se Luiz Alberto con questo gol può riconquistare la maglia titolare. Non lo so. Certo che il ragazzo è andato a togliere le ragnatele. No, 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 ma il gol è assoluto. È imprendibile. Il gol è stupendo. Come esecuzione è quasi perfetta. Meravigliosa. Di collo esterno a girare. Mi ricordo al gol che aveva fatto Zanetti in finale di Coppa UEFA contro... Allora, l'esternata è quella. L'esternata è simile. E sai anche da sinistra a destra. Adesso non mi attaccate Simone anche su questa? No, ma ragione. Perché è un lontano ricordo. Ha ragione. Ha ragione. Qui questo è... Lazio-Inter tra l'altro. Un gol pazzesco. Lancio lungo di... Non ho visto chi lanciare lungo a cercare Skriniar addirittura. Che adesso sta al limite dell'area di livello della Lazio. Però... Calata molto l'Inter. Ha avuto quella fiammata dopo il gol. Ora Brozzo. Darmian. Pallone per Skriniar. Posizione di Ala. All'indietro per Ciala. Deviazione! Dzeko! No! Di testa alto sopra la traversa. Occasione per l'Inter. Ciala prova a destra. Non è fuori gioco. Deviazione Dzeko. Però ha disturbato la prova. No! È Filipe Anderson l'anticipato. Non lo so. È sembra di sì. Sì. È Anderson. No! No! È vero. Sembra anticipato. No! È ufficiale. I due attaccanti hanno gli spigli. Hanno gli spigli. Ma questo era facile secondo voi? No! Facile no. Però per uno forte di testa. Cioè se ci vai devi anche essere pronto. È distinto. È stato tratto in inganno da... Pensava ci arrivasse prima Laziale. Ma di distinto. Vinto Dzeko ci va con la testa e pallone va. Ma poi direi... Non era semplice. Un tantesimo di gioco ma per quello che abbiamo visto è una partita che può davvero riservare ancora tante emozioni. È una partita a fase questa. Attenzione. È una partita a fase continua. Filipe Anderson va via. Velocissimo. Ancora tanta birra in corpo. Il brasiliano prova il tunnel su Gosens. Non ce la fa. Rimane il tedesco lì a mordere le caviglie. Poi Ciala recupera palla. Correa prova ad andare via sulla sinistra due uomini. C'è il ritorno di Cataldi che gli sporca il pallone. Il fallo laterale a favore dell'Inter che ha dieci minuti... Lascia la palla Ciala. Vai lì davanti. Tanto tre secondi più, tre secondi meno. Gosens all'indietro per Bastoni. Nove minuti al termine più recupero. L'Inter deve rimontare un'altra volta. Dopo il gol dell'1-1 sembrava che l'Inter potesse ritornare a comandare la partita. Non è successo. Ora Scrini, Arciala ancora per Brozzo. Chiuso sulla tre quarti di destra difensiva. Prova col sinistro a cambiare tutto. Sbaglia di nuovo. Molto male Brozovic. Molto male. Poche idee confuse. Riparte la Lazio con Felipe Anderson. Pallone per Milinkovic. Tre quarti centrale. Prova a cercare il corridoio. Darmian va in chiusura. Palla che si impenna. Ciala non riesce a vincere il duello con Milinkovic. Ma lo fa Brozovic in qualche modo. Poi Brozo insiste nel dribbling di troppo. No, non va bene, non va bene. Malissimo Brozo, malissimo. Anche questa scelta sbagliata. La Lazio recupera palla. Patrick. Ancora lui. Tre quarti di destra verticale. Felipe Anderson. Isai. Entrato al posto di Lazzari. Pallone all'indietro per Patrick. 82 di gioco. La Lazio sembra comunque in gestione. Tiene bene il pallone con lucidità. Ancora Pedro. All'indietro ancora per Marusic. All'indietro di nuovo per Provedel. Pressing di Lautaro. Provedel lancia sulla fascia. Darmian va al contrasto con Pedro e guadagna un fallo laterale. Chiede palla e raccata palla. Vediamo se è arrivato il pallone. Intanto rivediamo forse Cataldi che è del cambio. Cataldi che è del cambio. Intanto rivediamo Cataldi ma non vediamo la partita. Marco Santoni è naturale sostituto. Anche quest'anno se si oscura Brozovic l'Inter fa una grande fatica. Vabbè ma è una partita dai. Cioè nel senso Brozovic di solito. 3.000 partite che può capitare con la serata. Non credo si debba avere paura del rinvento di Brozovic. Magari però approfitti per farlo riposare. Visto che non è in serata. Quindi Giacomo invece era mezzo no? No però pensavo quest'anno non fossimo più così dipendenti da Brozovic. Attenzione attenzione attenzione. Giacomo Correa 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 Correa. Cosa fa Correa? Ma cosa fa Correa? C'era Gosens da solo. Non tira e non passa. Non so c'aveva quattro maglie della Lazio davanti. Non so dove volesse andare. Ora c'è fallo di bastoni. Correa ha la palla al limite dell'area di rigore. Sulla sinistra bastoni tutto scusami Gosens tutto solo. Non gli dà il pallone. Prova ad andare in mezzo a quattro maglie biancocelesse. Da qua si vede benissimo. Vediamo. Ma non ho capito. Ha cercato il Devae con Zeko Court. Correa secondo me vuole strafare perché è davanti al suo ex pubblico. Ha sbagliato completamente. Ha sbagliato completamente. Posso dire una cosa? Non è ancora finita. A me la partita di bastoni stasera non ha convinto. Non ti è piaciuto? Per nulla. Tanti giochettori dell'Inter ci sono stati sottotani. Però bastoni stasera l'ho guardato in particolar modo spesso in ritardo, fallo. Allora due cambi per la Lazio. Fusure non sempre buce. Fuori Cataldi dentro Marcos Antonio. Fuori Felipe Anderson che è andato tutto dentro Cancellieri. Mancano sette minuti. Alla fine più recupero. Meno dei sette minuti perché siamo a minuto 83 e 20 secondi. Quindi due cambi per la Lazio. E Sarri non si smentisce. Marcos Antonio da sei minuti e mezzo. Probabilmente deve ancora ambientarsi. Sì, è probabile. Credo. Poi l'investimento è stato di 10 milioni di euro. Credo che sia per farlo giocare titolare alla lunga. Non lo so. Teoricamente sì. Teoricamente assolutamente sì. Inter che recupera palco. Contro Cancellieri. Il maggiore investimento Marco. Esatto. Esatto. Per sopperire a un'assenza. Cioè Cataldi poi è un buon giocatore. Cataldi sta facendo comunque il suo. In teoria Marcos Antonio dallo Shakhtar. Titolare fisso. In teoria. Inter. Ciala sulla sinistra. Prova ad andare a via Milinkovic. Ce la fa. Ancora palla per Gosens che rientra. Palla sul mancino. Buono. Il pallone per Correa. Che stoppa. Chiede l'1-2 Brozo. Deviazione di Pedro. Palla che si impenna. Corner per l'Inter. Noi che a volte siamo... Dando l'impressione di essere troppo leziosi. Brava. Guarda mi hai tolto il tempo. Cioè ci sono delle partite che con la cattiveria e con la cosa. Invece noi cerchiamo anche il gol bello. Il fraseggio corto. Torner. Cialanoglu dalla sinistra col destro. 85 di gioco. Parte il cross. C'è una deviazione. Palla che attraverso tutta l'area di rigore. Darmian si impegna per tenere la palla viva in campo. Non ce la fa. Infatti fa laterale per loro. L'ha capito tutti. Non Darmian. E quindi rimessa laterale per la Lazio. Sudatissimo Simone Inzaghi. Mamma mia. Messe tutte camicie. C'è la camicia abbottonata qui in qua. Fa caldo a Roma Franco. Sì molto. Molto. Ecco perché. Rimessa laterale Lazio. 5 al termine. Però io credo di essere in ritardo alla pubblicità. Sì di 2 minuti. Ippo. 3 a 1 della Lazio. Segna Pedro. In grandissima difficoltà l'Inter. Quando ci sono i giocatori veloci nell'uno contro uno. È un difetto che abbiamo dall'anno scorso. E continuiamo a portarci dietro. Pedro dopo un contrasto in area a dubbio. Darmian immobile. La palla arriva a Pedro. Sulla zona sinistra dell'area di rigore. Rientra sul destro. Darmian che prima aveva commesso fallo. Credo sarebbe stato rigore. Sì sarebbe stato rigore. Comunque Pedro va a puntare Tevrai. Era rigore secondo me. E comunque Pedro fa un gol. Sì sì era rigore. Destra a giro sul secondo palo. Partita chiusa. Inter che dopo il pareggio sembrava poter rimettere in piedi una partita che va a perdere di nuovo. E dopo la sconfitta dell'anno scorso replica quest'anno. Campo che per noi è stregato. Però oggi obiettivamente l'Inter ha giocato una bruttissima partita. Dobbiamo fermarci. Cambi di Sari decisivi. Luisa Alberto e Pedro entrambi in gol. Partita indirizzata. Ancora però 7-8 minuti da vivere. Sì ancora Lazio davanti. De Vrij non tiene Immobile. Immobile vince il posizionamento. Tiene palla. De Vrij rimane dietro. Gli tocca il pallone. Fallo a tre alla favore della Lazio. Un minuto al novantesimo. Partita che dopo il gol di Pedro è assolutamente chiusa. Un Inter molto molto deludente oggi. Sia nella prestazione sia nei singoli. Perché dopo sarà difficile fare gli up and down. perché se togli Dunfris che ha giocato una grandissima partita per gli altri è difficile. È veramente difficile. Lautaro ha fatto gol. E non si capisce perché l'ha levato poi. Bravo. Appunto. Anche perché Darmian è entrato male. Darmian è uno che di solito entra bene e che comunque ti dà sicurezza che sa attaccare, che sa difendere ma ha sbagliato sul gol del 2-1 ha sbagliato sul gol del 3-1 è entrato molto male Darmian. Sul gol del 2-1 lascia passare il pallone sul gol del 3-1 commette fallo e da rigore su immobile è entrato molto male Darmian. Fallo laterale Correa cade Marovano. Che succede? Fallo? Cade a recuperare la palla Correa. 90 di novantesimo minuto fallo laterale Correa all'indietro per Bastoni Brozo si gira orizzontale per Skriniar aspettiamo solo l'indicazione dei minuti di recupero Darmian va a prendere Geko a pescare Geko che poi sbaglia mamma mia recupera la Lazio Ciala per un attimo recupera poi ancora Pedro bravissimo con un doppio passo tiene il possesso poi Lautaro subisce forse fallo Geko Ciala in area niente anticipato palla che finisce a cancellieri poi Bastoni di testa comodo 6 di recupero 6 di recupero sul 2 a 1 sarebbe stata una bella notizia sul 3 a 1 è ininfluente Andanovic anche 15 ma non la rimedi più a parte che Ugo mi ricordo che le partite bisogna sempre stare attenti anche con Brozo largo per Lautaro limite dell'area di rigore sulla destra Lautaro arriva il cross morbido per Geko anticipato non era male il cross di Lautaro poi Brozo recupera Skriniar contro Immobile poi De Vrij allarga per Lautaro che stoppa ancora molto bene va a cercare di darmi anche a spazio cross in mezzo all'indietro c'è spazio per Gossen spalla sul sinistro cross morbido in mezzo per Geko Marusic mette fuori poi ancora Skriniar stoppa a favore di Immobile che riparte in contropiede rimane lì Skriniar Immobile trova Pedro attenzione cancellieri lanciato a campo aperto l'unico difensore dell'Inter è Cialanoglu cancellieri col sinistro non inquadra la porta eh ragazzi proprio brutta partita proprio brutta partita secondo me è sbagliata la formazione iniziale è sbagliati anche i cambi e anche comunque l'atteggiamento di alcuni giocatori non l'atteggiamento nel senso sufficiente proprio la prestazione sotto tono di alcuni giocatori chiave c'è poco da salvare Filippo stasera nell'Inter Lazio 3 Inter 1 finisce così prima sconfitta dell'Inter in campionato già alla terza partita non bene molto molto male oggi l'Inter molto molto male Inter che nella prossima affronterà in casa la Cremonese poi c'è il derby di Milano esce dal campo sconsolato Lautaro si riprende subito ben aggiornato vabbè Inter Cremonese chiama l'uno in schedina questo possiamo dirlo pensavo la seconda Franco Inter deludente la Lazio fa festa titola la nostra energia Ugo vengo da te per primo che da un po' che non c'è la squadra ha perso la partita all'allenatore ha perso la partita all'allenatore sicuramente pronti e via il fatto di aver rinunciato a Ciaranoglo ha lasciato le due punte là davanti poi ha commesso un altro errore grave quando ha tirato via l'olandesino per mettere Darmianche ci sono due categorie di differenza e si è visto anche in campo basta quando tu fai questi regali e poi Lukaku che oramai ha la forma della matriciana sulla pancia perché non si muove è lento lo vedi un po' più vabbè poi noi eravamo abituati con Conte che sembrava flash esatto dici che adesso gli serve un po' di tempo Evaristo cosa dici è molto giù fisicamente è giù lui non è Lukaku che eravamo abituati a vedere e Stend secondo me è arrivato aveva qualche chilo addosso e sono fatiche a smaltirli perché non è brillante e agile come era prima però il valore del giocatore c'è c'è da aver pazienza e che lui trovi la forma migliore ci dobbiamo fermare arrivo subito Franco così commentiamo questi numeri grazie alla regia della partita possesso palla leggermente superiore a quello dell'Inter 7 tiri in porta per parte 10 tiri fuori Inter contro 3 della Lazio diciamolo è davvero una partita che poteva finire in ogni modo Luiz Alberto con una magia l'ha indirizzata la festa Franco parto da te che hai portato a casa la partita direi che oggi puoi essere solo che soddisfatto dalla prestazione dei tuoi della Lazio ma guarda io credo vittoria meritata anche se ha avuto fasi alterne in particolar modo era piaciuto l'inizio dell'Inter e non era piaciuta per un quarto d'ora la Lazio che come un diesel poi è venuta fuori direi lentamente ma inesorabilmente approfittando dell'avena in particolar modo di Filippetto Filippa Anderson che non a caso ha segnato molto bene anche lì però complice una amnesia difensiva tra Bastoni e D'Ambrosio che ha portato in vantaggio la Lazio l'Inter mi è sembrata in ritardo generale di condizione la Lazio mi è apparsa più determinata più convinta di potercela fare e direi con una gamba generalmente migliore rispetto agli omologhi avversari io aggiungerei anche un altro aspetto la Lazio ha strameritato ha giocato meglio dell'Inter l'Inter con alcune defiance poi magari quando si andrà sugli up and down ci sono un paio di cose che voglio aggiungere tra due minuti però tutti e tre i gol della Lazio vedono degli errori alcuni gravi altri gravissimi è anche vero che hanno fatto tre tiri della domenica da parte dei difendenti nerazzurri è anche vero che hanno fatto tre tiri della domenica il primo è l'assist di Milico scusa due tiri della domenica non sono due tiri della domenica ti può andare bene l'Inter non ha giocato bene non sto dicendo niente quello che voglio dirti Simone Pedro sul terzo gol va a cercare i due difensori e col tiro a giro la mette dentro quello magari di Luisa Alberto è un pochino più Fortunello c'è anche una deviazione però tira una castagna di collo esterno si diciamo che la PEC è stata quella di lasciare diciamo troppo liberi guarda allora lo dico subito tanto Filippo tra poco farà gli up and down a me dell'Inter forse è piaciuto un pochino di più Dumfries si migliore in campo Bastoni l'ho detto in cronaca non mi è piaciuto per niente mi chiedo che fine abbia fatto Gosens che è subentrato quindi a meno col degli altri ma io mi ricordo di un Gosens che era un treno sulla fascia arrivava in fondo probabilmente l'infortunio patito poco meno di un anno fa è imbolsito è oggettivamente imbolsito lo ha segnato molto però non sembra Gosens non sembra lui non sembra lui a parte i singoli anche tutto il reparto di centrocampo non è riuscito ad aiutare i difensori nei gol perché sono entrati dappertutti la i centrocampisti devono aggirare soprattutto sul terzo gol non aiutano i centrocampisti non escono non vanno opporsi perché se il centrocampo fa filtro e gioca bene i difensori non so la difesa è sempre stata in balia degli attacchi dei centrocampisti una squadra spaccata la Lazio quando ripartiva con una grande velocità ha sempre messo in difficoltà è la retroguardia dell'Inter sempre allora andiamo con gli appendauni i peggiori per il resto è colpa tua Simone cosa ho fatto io? Simone hai detto vinciamo dopo un secondo di un'esercizio alla Lazio no non ho detto quella parola cosa hai detto? hai detto Franco attento ho detto arriviamo non ho detto arriviamo arriviamo è arrivato però chissà cosa avrei voluto intendere con quella arriviamo rimaniamo col dubbio Filippo migliori e peggiori di questa Inter di sessere allora migliori Dumfries sicuramente che non doveva uscire secondo me i due cambi Dumfries Lukaku per due motivi diversi sono stati fondamentali i cambi che ci hanno completamente indirizzato la partita in negativo Dumfries 7 do un 6 a Lautaro perché comunque ha segnato il gol dell'1-1 che ci ha rimesso in pista 6 a Lautaro e se devo trovarne un terzo non è facile io mi fermerei lì sentendoti da prima io mi fermerei lì Skriniar 6 ma giusto perché comunque rispetto agli però stiamo parlando veramente di una squadra che ha preso tre gol però vabbè io mi fermerei veramente a Dumfries e a Lautaro personalmente e Lautaro per il gol Lautaro per il gol non è banale far gol e poi perché nel secondo tempo è riuscito a movimentare leggermente di più un attacco anemico come quello dell'Inter però mi fermerei lì sui down vai sui down c'è l'imbarazzo della scelta però secondo me un altro campo Gagliardini 4 ma anche Barelli e Brozovic alla fine Brozovic male Gagliardini 4 Darmian 4 e mi dispiace tanto ma Inzaghi 4 Gagliardini 4 non ha fatto Inzaghi 4 sì sì sono sono i cambi i cambi allora ha sbagliato la formazione iniziale ha provato questa cosa di Gagliardini che non ha non ha dato frutti e ha sbagliato i cambi e quindi la partita è stata persa così ma vedo che comunque leggevo anche un po' in giro i pareri sono unanimi non c'è qualcuno che la veda in maniera diversa perché è tutto troppo evidente per come è andato oggi mi dispiace tanto perché io sono uno a favore di Inzaghi uno che lo difende sempre che pensa che il suo lavoro sia ottimo ma oggi oggi secondo me molta responsabilità è sua l'errore più grave quando avevo modo di sentirlo l'errore più grave e velocissimo di Simone Inzaghi è non tanto sbagliare la formazione iniziale ci può stare hai tentato una mossa non ti è riuscita non rendersi conto di quello che sta dicendo in campo che hai bisogno di fare un cambio diverso a lui i cambi li sbaglia spesso li sbagliava anche alla Lazio non è il suo forte Franco ci sta però è un errore grave Franco è un errore che è il suo tannone da chille è il suo limite eh ma per un allenatore che insomma è seduto su quella panchina non è da poco uno dei top in Italia a sbagliare i cambi è grave becca sui sui giocatori peggiori scelti da Filippo Darmian Gagliardini e poi anche un brutto voto per Simone Inzaghi sei d'accordo? Inzaghi ma anche Brozovic non era in grande serata al di là dell'analisi di qualche giocatore ti devi chiedere che negli ultimi due anni all'Olimpico abbiamo perso tutti e due gli anni quindi già lì vuol dire che contro le squadre di Sarri qualche problema ce l'hai e secondo me si ha dovere di modificare qualcosa poi ti ripeto al di là della prestazione una buona meno buona responsabile e tutto quello che mi ha colpito che ci aspettavamo di fare noi la partita e l'abbiamo fatta in primi minuti è passata in vantaggio la Lazio poi se quando l'abbiamo ripresa abbiamo fatto quei 10 minuti lì che ti dava l'impressione che l'Inter fosse ripartita per sì Lazio in confusione però sono partiti due giocatori di là di qualità che anche lì bisognerebbe chiedersi come vai questi due stanno in panchina e ti risolvono la gara ecco io più che il singolo che abbia visto che non erano in grandissima serata tre o quattro giocatori però l'atteggiamento cioè le partite durano 90 minuti ci sono dei momenti l'uno a uno ok io capisco che ti viene l'euforia però se ci guardiamo in campo vediamo che non siamo nei momenti migliori aspetta ragazzi aspettiamo un attimo e vediamo cosa succede invece noi siamo partiti subito per andare a fare il secondo gol e ci ha castigato e quello è l'allenatore che ti dà certi input sì l'allenatore gli deve dare se non le capisce con le buone bisogna dire con le cattive e tira i due o tre in capo oh ragazzi stiamo corti stiamo aggressivi cioè c'hai tempo di ragionare però becca dai anche un segnale con alcuni cambi con alcune sostituzioni cioè il fatto di continuare a tenere in campo Gagliardini per quasi tutta la partita e mettere altri giocatori Cianoglu in maniera tardiva quello è anche un segnale è sbagliato quante volte è entrato sempre migliore difficilmente stecca quindi devi fare il conto di essere lucido per vedere tutte le situazioni che si possono fare l'allenatore è quello Ugo sei stato il primo a sostenere la tesi che c'è la Noglu in panchina non ci poteva proprio stare oggi no ma io dicevo prima è già come diceva anche il dottor Melli da Roma lui è il suo il suo tendine da chile capito sul tallone d'Achille perché proprio lui sbaglia l'anno l'anno che l'Inter ha vinto lo scudetto c'era una partita con Napoli in casa dell'Inter che mi pare aiutami che vinceva 3 a 0 l'Inter ha fatto 2 o 3 sostituzioni il Napoli ha fatto 1 o 2 gol mettendo in crisi l'Inter in una maniera no ha vinto il Milan lo scudetto no quando l'ha vinto l'Inter ah con Conte allora con Conte si che ha rischiato di di compromettere una partita che aveva già vinto ma tu parli di Inter Napoli dell'anno scorso San Siro quando Mertens all'ultimo sbaglia con la lì con il Zaghi all'anno scorso vince lo scudetto si era l'anno scorso ti ricordi anche lì ha fatto 2 sostituzioni adesso non mi ricordo con il Napoli con il Napoli che al 94 fallisce è vero è vero è vero aveva cambiato la partita a me sembra che voglia accontentare un po' tutti i giocatori quindi mi fai giocare tutti però vabbè allora allora fai il benefattore oggi Dunfrid a Roma con la Lazio capisco Inter Cremonese 2 a 0 ma a Roma con la Lazio su 1 a 1 lì Dunfrid non lo devi togliere sono d'accordissimo Lukaku anche se al 50% è un giocatore che in campo ti serve non lo devi togliere mi togli Gagliardini che non è uno che ti sposta niente è in difficoltà è lento il campo è pesante mi metti uno che ti dà qualità come c'è la Nogluca esperienza che può essere decisivo sui calci piazzati che se la intende bene con Barella e Brozovic dai una mano a Brozovic non lo so va bene Gossens di Marco ci può stare va bene ma non è che ne devi fare per forza stravolgere tutta la squadra cioè Lukaku è in deficit tanto non deve farti il terzino Lukaku serve lì davanti serve a spostare i due difensori capito non serve vedere uscire Lukaku e Dunfris a settantesimo fa specie i cambi dovrebbero servire per mutare l'inerzia della gara se invece fai dei cambi che o peggiorano l'inerzia stessa oppure non portano dei benefici io ho avuto la stessa sensazione guardavo il Milan a Bergamo ho avuto la stessa idea quando Pioglio ha tolto Leao Leao non stava giocando una grande partita però aveva fatto due o tre strappi saltando un po' che ti tiene impegnato alla difesa quello è un giocatore che può giocare male 80 minuti ti fa uno strappo fa gol o ti fa fare gol tiene la difesa sempre così e poi la cosa che a me fa impazzire c'è nel calcio di oggi non puoi pensare quando giochi dopo tre giorni la realtà la partita quella poi dopo pensiamo alla se cominci faccio riposare perché tu devi vincere quella partita anche perché poi tra tre giorni non affronti il Liverpool con tutto rispetto ma c'è l'Inter cremonese e poi dopo la cosa io insisto che una squadra matura esperta come l'Inter cioè la Lazio ho grande rispetto però è pericolosa perché quando ti sembra che sia imbambolata perché la Lazio ti dà quella impressione sono velocissime nella ripartenza poi in due o tre ripartenze è certo e ti dà la sensazione che ti fa gol in questo senso perché ha dei giocatori di grande qualità soprattutto a centrocampo veloci ma anche qualità ma la velocità stasera quando la Lazio è ripartita con determinati strappi l'Inter è andata in carino no dimmi un lato positivo un lato positivo me lo trovi? un lato positivo di stasera è assolutamente Dunfries 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 è il lato positivo è un giocatore che in certi a tratti quando andava a difendere poi attaccare in giro di pochi mi ricorda Maicon a tratti mi ha ricordato Maicon ma è un lato positivo dall'inizio del campionato eh non ho capito no è un lato positivo dall'inizio del campionato dice Franco sì infatti è stato il giocatore migliore fino adesso e ha risolto a Lecce allora ci dobbiamo fermare potrebbero arrivare in tempo noi alle undici e mezzo dobbiamo chiudere Inzaghi e Sarri dalla sala conferenza dell'Olimpico chiaramente ve li proporremo in diretta nel frattempo però viriamo su due partite che si giocheranno domani la Juventus di scena a Torino contro la Roma il Milano in casa contro il Bologna di scena a Torino